come ogni puntata di lettura metropolitana chiediamo sempre una mano a tutte le persone che ne sanno di più e di qualsiasi argomento la settimana scorsa abbiamo intervistato una scienziata su una notizia molto importante questa settimana stiamo creando delle aspettative così sbagliate no questa settimana anzi poche ore fa è uscita questa notizia che vi vado a leggere ovvero la serie di nox trasloca a olevano romano e a questo punto dobbiamo assolutamente considerare come esperto edoardo ferrario in quanto esperto di olevano romano ne aveva parlato prima lui io sono stato io diciamo che ho portato olevano romano nel cinema italiano nel teatro italiano per ora forse nel cinema già c'era stato adesso poi magari gli amici di olevano romano mi diranno che zeffirelli aveva girato lì sicuramente qualcosa sarà stato già girato però posso essere posso dire di essere stato il primo ad averla portata in uno spettacolo teatrale credo soprattutto parlando del fatto che ormai la vera speculazione edilizia si fa nei casali in campagna nessuno di noi può permettersi più di comprare una casa in città e quindi alla fine la nostra scelta sarà quella di comprare un bel casale olevano romano che è proprio quello di cui parlo nello spettacolo non pensavo che parlandone durante performante avrei convinto una produzione italiana a girare lì una serie su amanda nox chiedo pure scusa forse agli amici di olevano romano che magari non volevano proprio vedersi arrivata troupe che parla di questo caso di cronaca nera terrificante nel proprio paese dove a memoria mia non credo ci siano mai stati efferati fatti di cronaca lo auguriamo se ci stiamo dimenticando qualcosa di smentire non scoperti per lo meno quindi poi magari per sapere che la nascondono chissà cosa però insomma tempo per scoprirlo e chissà che adesso però insomma quantomeno olevano romano diventerà un paese diciamo al centro dei magari diventa una nuova meta turistica magari sarà molto anche lì diventerà un paese di bed and breakfast considerando quello che sta succedendo a roma tenetevi stretta olevano romano sì avremo daremo anche modo a tutte le persone che sono da dal lazio in su di dire olevano invece che questa è una grande una cosa abbastanza almeno noi lo sai che lo sai che io però sono stato corretto perché io nella prima parte dello spettacolo diciamo per un paio di mesi per varie date ho detto olevano romano veramente te lo giuro poi quando sono arrivato a roma la gente mi ha scritto ma che segretino ti dice olevano romano e allora lì in parte mi sono scusato con tutti e poi mi hanno anche fatto la battuta che temo che facciano tutti quanti su olevano romano prima olevano e poi io riporto quello che mi dice dicono le persone per sapere anche un punto preciso dove fare un'inquadratura molto particolare di questa serie dovete però partecipare e andare a vedere edoardo ferrario a teatro nella seconda più date europea quindi sarebbe la terza gamba se non ci fosse pure qui un doppio senso diciamo che è una terza gamba dai una terza gamba dello spettacolo sì lo sto chiamando winter tour nonostante siamo ancora in autunno dai concettualmente è winter tour e sì 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 performante è ritornato su in in teatro c'è un lungo un lungo tour che appunto vi consigliamo caldissimamente dopo aver visto la seconda data romana al brancaccio seconda data sold out andrà avanti fino ad aprile a febbraio la data è il 21 febbraio a 21 febbraio a lecce ma non escludo che possano esserci altre date e vai ve lo consigliamo tantissimo non soltanto per appunto luoghi ameni e bed and breakfast consigliati o non consigliati però appunto è uno spettacolo da un ritmo veramente incalzante molto molto divertente e che ogni volta cambia noi abbiamo assistito ce l'hai confermato anche tu ad una data che è finita con un colpo di scena che però possiamo dire ma non avrebbe senza spiegarlo quindi vi vi consigliamo ancora di più diciamo che la dimensione eventuale è molto importante è molto importante ma è anche quello che rende divertente la performance soprattutto per me ho fatto quasi 30 date comunque per me è fondamentale tutte le sere cercare di ricevere spunti e stimoli dal pubblico quindi l'improvvisazione è sempre il modo migliore diciamo ho collezionato aneddoti straordinarie in tutta italia tutte le volte che parli con il pubblico il pubblico ti regala delle delle emozioni grandiose soprattutto quando faccio la domanda alla fine dello spettacolo qual è una cosa che ti ha fatto sentire un eroe che hai fatto nella vita le persone mi dicono delle cose che non sono che non sono neanche raccontabili bisogna venire allo spettacolo per sentirle e una buona parte di quello che faccio sono sono spunti che mi che mi regala il pubblico quindi insomma io vorrei farti una domanda sul titolo sul performante perché ovviamente è un titolo che ha molte letture come è giusto fare in questi casi in modo che poi le persone possano farti le domande o farsi le domande però io in realtà ho pensato anche che con la diffusione e giusto bella diciamo soprattutto per voi della stand up comedy c'è anche un po un senso della performatività del comico cioè prima no uno poteva un po fare come non dico come gli pareva però insomma c'erano magari meno punti di riferimento meno modelli il pubblico conosceva molto meno i modelli esteri per esempio che grazie ai maestri fizi di streaming sono diventati molto più accessibili a tutti adesso se dici gli uck per dire uno molto famoso però lo conoscono molto di più di di cinque sei anni fa secondo me come nome no quindi ecco la performatività nel tuo mestiere che peso sta avendo guarda io ho iniziato anni fa diciamo in un momento in cui tutto sommato non non c'erano ancora i social o comunque iniziava ad esserci facebook tutto quello che io proponevo lo ripubblicavo su facebook era proprio il mio modo per far vedere il mio lavoro quello che ha cambiato un po tutto è stato l'uso dei social quotidiano quindi diciamo le storie di instagram soprattutto o tik tok penso che quello abbia messo ciascuno di noi una dimersione estremamente performativa io poi è il mio lavoro cioè io lavoro nello spettacolo quindi lavoro con la mia immagine quindi e devo essere performante nel senso che il mio lavoro richiede una performance richiede un'esibizione mi fa più paura quando vedo che in questo meccanismo finiscono anche le persone che non dovrebbero avere nulla a che fare col mondo dello spettacolo ci sono questi video ormai sembra impossibile gestire un'attività un negozio anche una piccola bottega se non fai comunque un personaggio che poi appare su instagram la farmacista che fa i modelli delle degli stronzi con la creta per farti vedere se stai cagando nel modo giusto quello che fa a catania gli aperitivi pistacchiosi cioè tutte quelle cose lì non esistevano e io comunque mi chiedo che peso a questo cioè è molto è molto faticoso e pericoloso esporsi al giudizio del pubblico costantemente sia il tuo lavoro è un po come se fossi uno stuntman e comunque è come se avessi frequentato un corso per poi magari fregarte nei commenti negativi e tutto ma se tu nella vita fai la farmacista e poi inizia a questi video la gente ti insulta oppure se poi magari la farmacista a fianco a te c'è un'idea migliore della tua e fa il triplo dei tuoi follower tu come reagisci penso che ci sia una ci sono dei lati molto dannosi e molto pericolosi in questo diciamo in questa condanna dover performare sempre comunque per in qualche modo promuovere la propria attività era una cosa che non era richiesta fino a qualche anno fa e quindi insomma lo lo spettacolo parla parla soprattutto di questo io voglio farti innanzitutto i complimenti oltre per lo spettacolo anche per quello che c'è stato prima e dopo cioè la selezione musicale è veramente bellissima ragazzi miei ma io ci tengo moltissimo io ci tengo moltissimo e sono anche accompagnato in tour da una persona che un pochino ne capisce nel senso che il mio tour manager io ho la grandissima fortuna di lavorare con francesco aprili che è uno dei più importanti batteristi italiani che ha suonato oltre che con insomma la maggior parte dei dei gruppi dei cantatori italiani ha suonato per dire con i phoenix è stato il batterista di phoenix in tutto il tour asiatico quindi insomma è una persona che ne capisce e quindi diciamo che la tutta la playlist iniziale è opera sua e la playlist invece finale invece abbiamo abbiamo fatto una selezione un'antologia dei pezzi degli strokes per dare proprio al pubblico una una un un atterraggio molto morbido prima di prima di tornare a casa alla fine dello spettacolo pensa che io nella mia ignoranza dicevo ma è il brancaccio eh che va a fare invece no è tutto che ne so io invece è tutto siamo noi siamo noi tra l'altro appunto i brani le canzoni che avete sentito prima la canzone in apertura di questa chiacchierata e il brano che chiuderà questa è direttamente frutto di me con shazam che non riconoscevo esattamente quale canzone degli strokes o quale dei font in dc o ce ne sono ho usato molto shazam nel in cui hai fatto bene la tua playlist ne ha guadagnato in bene ma a proposito di questo parlavamo prima di performance si parla moltissimo anche di atti di scaramanzia prima del palco dietro palco invece ci stanno come questi questi piccoli gesti di cura per accogliere le persone che entrano a teatro qualcosa che magari non te l'ha insegnato nessuno però secondo me quando passano questi brani o far una luce così cosa guarda per me la musica è fondamentale io cerco sempre di evitare il silenzio più assoluto perché il silenzio è proprio da 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 dramma teatro se il pubblico arriva mi piace mettere bella musica perché insomma se io sono uno spettacolo e sento bella musica prima che inizia mi piace mi mette già in una buona in un buon mood e poi cerco di cerco di non lasciare mai il pubblico ad aspettare troppo che inizi lo spettacolo perché comunque diciamo a teatro è un po più facile cioè se spettacolo alle 21 alle 21 entro le 21 e 15 al massimo si inizia ma poi insomma in generale è il caso di quagliare cioè non mi piace mai aspettare troppo e non deve mai passare troppo tempo da quando viene annunciato all'inizio dello spettacolo a quando sale la prima persona sul palco e poi mi piace fare le aperture mi piace chiamare dei comici che aprono lo spettacolo perché penso sia un modo per un po iniziare la serata in maniera divertente mi piace proporre nuovi comici nuove comiche quindi insomma è anche quella è un grande divertimento sceglierli confrontarmi con loro insomma cerco sempre di fare uno spettacolo completo per il pubblico come è questo però mi interessa come come li scegli immagino in base a cosa piace a te cioè quelli che ti sono ti hanno divertito che hai scoperto magari più recentemente dove li trovi esatto guarda molti sono amici nel senso che poi insomma ovviamente io ne conosco molti poi sai fino a qualche tempo fa li conoscevo tutti più o meno conoscevo un po tutti diciamo nella scena italiana da dopo il lockdown è esplosa la stand up comedy in italia e ormai ci sono quelli che io chiamo di quinta generazione cioè quelli che sono arriva proprio a parte molto giovani ma poi magari persone che hanno visto tutti noi e poi hanno visto tutti quelli dopo e poi quelli dopo ancora e poi hanno iniziato a fare stand up quindi questa è una cosa molto bella e mi piace molto molto quando magari vado in città dove non sono mai stato dove non ho non conosco persone soprattutto non conosco comici mi piace molto fidarmi magari mi affido al promoter locale oppure chiedo mi è anche capitato di chiedere su instagram se qualcuno volesse aprire le serate diciamo che mi piace anche avere un po la sorpresa di vedere qualcuno sul palco vedere come si come si esibisce quali contenuti porta cerco sempre di chiamare persone in linea con la mia comicità perché insomma sarebbe molto strano se come se appunto vai a mangiare la carne e poi però invece di antipasto ridanno tutt'altro insomma diventa è importante che sia abbastanza omogenea come presentazione in performante non si lesinano stoccatine anche a precedenti esperienze che hai fatto banalmente tu sei effettivamente stato hai esperienze su tutte le piattaforme cioè lol e stessa prova prova su prime temi caldi su netflix mi sono segnato pese reale e diamoci un tono sulla rai non parlare appunto dei gialappi la radio con bai me ne abbiamo parlato tempo fa in una intervista adesso anche la serialità su sky quindi hai completato il tabellone della tombola c'hai le carte anche a rakuten tv eh beh però diamo tempo al tempo pure movie immagino siano in ubi ancora no devo ancora fare il mio film d'autore in bianco e nero adesso piano piano facciamo tutto io farei la selada di liscio pure se le retino magnole se ti brava pure quello infatti secondo me va affatto il grande obiettivo anche quello però appunto tornando su questo tabellone della tombola c'è una cosa incredibile che ti è capitato su queste piattaforme ma nel senso proprio wow questa cosa proprio su netflix non ce l'hanno il buffet con le pizzette allora diciamo che che ti posso dire forse allora una delle cose più divertenti fatte in realtà è diciamo a un certo punto abbiamo fatto una cena post lol con tutti i partecipanti e quella cosa lì è stata molto molto divertente perché poi chiaramente a lol sei contenuto devi contenere sia perché vabbè non devi ridere ovviamente ma sia perché non puoi dire alcune cose nella scena dopo abbiamo potuto dire tutto e vi assicuro che comunque insomma avere l'estro di Rocco Tanica insieme capito a tutti quelli che c'erano in quell'edizione lì quella è stata una cosa molto divertente ma ancora meglio forse ora che ci penso è stata la riunione con gli avvocati di prime prima di fare la prima di fare la puntata e perché ebbe perché tu comunque prima di farlo cioè ti devono spiegare quello che puoi dire quello che accetto lì praticamente è stata una gara chiunque a dire tutte le cose più orrende ma noi possiamo parlare di prendere a calci i cani possiamo fare prendere a calci i bambini possiamo scherzare e questa cosa è durata un'ora ed è stata probabilmente una delle cose più più divertente di tutta quanta l'esperienza di prime senza alcun dubbio a questo punto l'abbiamo citato annuncisolo moragno è sulla bocca di tutti tu sei dentro il cast di annuncisolo moragno con un personaggio cardinale perché letteralmente senza che quella macchinina quella macchina rossa si sposta fosse spostata da milano a pavia gli 883 forse vero come è stato per te andare entrare in una in una storia che tra l'altro e aggiungo che siamo coetane conoscevi aggiungo una cosa che il personaggio che fai tu che è peroni no è diversamente da molti altri quello che forse è meno diciamo visualizzabile certo certo il meno riconoscibile dal pubblico ampio no cioè perché appunto non è una persona che sta davanti alle quinte è una persona che di solito sta dietro poi vabbè si conosce per vari vari motivi però insomma molti potrebbero non conoscerlo quindi anche lì da una parte hai magari meno riferimenti dall'altra però puoi giocare di più come andata il mio lavoro su su quella serie è stato proprio immaginare questo personaggio perché non era né max né nel repetto né fiorello né quindi insomma pierpaolo peroni è sempre stato un produttore che ha vissuto dietro le quinte come tutti i produttori più bravi insomma quello che io ho dovuto fare è in qualche modo immaginare questo personaggio perché poi mi sarebbe dispiaciuto fare un personaggio diverso da come da come poi peroni era stato nella realtà quindi mi sono basato un po su delle informazioni che mi aveva dato sidney sibilia che è il produttore del regista di alcuni episodi e quindi mi sono un po' immaginato questo romano andato a milano alla fine degli anni 80 e ho immaginato una persona che in qualche modo ci provava cioè provava ad avere successo in questa milano nel mondo della musica lui era il miglior amico di giovanotti quindi si era visto a fianco esplodere giovanotti sognava i rapper americani e poi si vede arrivare questi due sfigati di pavia come loro stessi si definivano e quindi tutta la comicità del personaggio nel rapporto fra i sogni di gloria i suoi sogni di gloria e la dimensione di questi due ragazzi che avevano un talento gigantesco ma all'interno di un corpo che non era ancora pronto a esplodere e quindi la cosa che mi ha fatto più piacere che poi pierpaolo peroni il vero pierpaolo peroni mi ha visto ha visto la serie mi ha contattato e adesso ormai ci sentiamo anche molto frequentemente e mi ha detto guarda mi hai beccato perché io alla fine degli anni 80 ero proprio così cioè quell'atteggiamento molto romano namo dimofamo in qualche modo ci riuscimo era proprio quello che io avevo in mezzo a quella milano che comunque era la milano degli anni 80 super yuppies grandi imprenditori eccetera sei riuscito a cogliere quel mio senso di 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 tentativo quella mia estenuante voglia di farcela che che era proprio insomma quello che lui aveva quando ha iniziato insieme agli 883 e questa è stata una grande soddisfazione perché appunto la mia più grande veramente la grande difficoltà era interpretare un personaggio che nessuno conosceva all'epoca tra l'altro non è la prima esperienza nell'audiovisivo di edoardo ferrari ricordiamo la sua partecipazione accreditata ne è stato la mano di dio giusto che stai scherzando io sono io faccio la voce del protagonista io allora io li ragazzi è una cosa stupenda mi è successo due volte nella vita di doppiare poi ti racconto l'altra però certo punto mi chiamano dalla produzione mi dicono guarda c'è da fare la voce di di maradona per un film dico ma non è che è l'ultimo film di sorrentino dicono sì è proprio quello ma figurati quindi tipo vado vado lì mando un provino vocale mi fanno senti la fai proprio bene vieni e quindi ho due battute in tutto quanto il film maradona non si vede mai davvero nel film però c'è un momento in cui gli tirano con lui sta tirando i rigori in porta e dice basta 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 e ho questa battuta che si sente e poi c'è un momento in cui hanno ridoppiato l'intervista storica che gli fece galeazzi dopo che il napoli aveva vinto lo scudetto in cui gli diceva una emozione grandissima e si spegne la radio quindi due battute ma io se tu vedi i titoli di coda di è stata la mano di dio voce di diego armando maradona edoardo ferrario e quindi se permettete cazzo io sono la voce del protagonista del film vi racconto anche l'altra che è molto bella si fa una serie mi dicono guarda ci sarebbe da fare la voce di berlusconi allora io tipo vado in questo viaggio berlusconi era sempre inquadrato i piedi o la nuca e dico io faccio la voce di berlusconi perché non si doveva vedere parlare era sempre inquadrato dietro e poi tipo vedo le scene che proseguono vedo non so stefano corsi miriam leone dico scusate ma c'è sta serie è una serie vera quindi fanno guarda è 1992 e all'epoca non avevo ancora capito bene perché appunto ancora poi doveva uscire insomma io faccio questa cosa e poi mi richiama la porzottiscia e mi dice senti guarda abbiamo provato a sentire tutti gli attori e non c'è verso sei l'unico che c'ha la grana di voce che è più simile a berlusconi e quindi alla fine io ho fatto la voce di berlusconi il 1992 e quindi io posso dire aver fatto la voce di berlusconi e di dico armando maradona se permettete ecco tra l'altro ti hanno dovuto sostituire con uno dei più grandi autori paolo pierobon sì per le seconde la noventa tre e novantaquattro è inquadrato però senza di te tutto questo sembra una battuta ad una roba non ci sarebbe stata fin investi in italia certo grazie davvero io grazie è il periodo quindi se siete in dubbio per regali natale regali di cresima befalle regali di cresima ottima idea performante dovete forse sbrigarvi un po perché il tempo scorre e i biglietti pure grazie grazie e a questo punto l'ultima domanda flash dopo la reunion dal papa cashmere tornerà se lo vorrà dio benissimo grazie grazie a voi ragazzi grazie ciao 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 ciao